Sindaco, è stata varata la nuova giunta, ci sono delle sorprese e anche delle conferme? Ma diciamo che innanzitutto in pochissimo tempo siamo riusciti secondo me a regalare un governo della città che potrà dare per esperienza amministrativa e per voglia di rimettersi in gioco delle risposte immediate della cittadinanza da quello che avevamo promesso in campagna elettorale chiedendo a tutti un voto importante che è arrivato e quindi noi non abbiamo perso tempo e siamo, ripeto, riusciti in pochissimo tempo a dare delle risposte concrete e oggi penso di avere una delle giunte più forti che si siano viste nel corso degli ultimi anni nel Comune di Giuliano. Sindaco, lei ha premiato le liste, non ci sono assessori esterni come nella passata giunta? Diciamo che all'interno delle mie liste c'erano le intelligenze che potevano dare delle risposte concrete e quindi non mi sembrava giusto non rispettare il voto degli elettori che hanno detto in maniera chiara che volevano essere amministrati da quelle donne e quegli uomini che hanno riportato delle preferenze importanti all'interno delle loro liste. Deleghe pesanti per Paolo Giorgini, per lei tiene commercio urbanistica? Per me tengo commercio urbanistica e anche il demanio. Su Giorgini è evidente che il voto ha fatto uscire Paolo Giorgini con un numero di preferenze incredibile e mi sembrava doveroso affidargli delle deleghe strategiche come quelle del bilancio e del personale. Paolo è una persona instancabile e quindi sono convinto che anche lì riuscirà a dare delle risposte perché il bilancio dà risposte non solo a quelle che sono esigenze dei cittadini ma dà delle risposte anche alla macchina amministrativa perché diciamo che ha le mani sulla cassaforte del comune. Ed ora è tutto pronto per avviare la stagione estiva? Sì, l'assessore Di Carlo che ci tengo a specificare è un assessore da me scelto, Giuliano Turismo, nonostante i tre consiglieri comunali non aveva chiesto il terzo assessore. È una mia decisione perché in continuità con il passato Marco Di Carlo saprà dare delle risposte su turismo, eventi e manifestazioni. Mi sembrava veramente sprecato tenerlo tra i banchi della maggioranza. Marco Di Carlo ha già annunciato che la settimana prossima uscirà il calendario degli eventi estivi perché Giulianova nel corso di questi anni è tornata ad essere il punto di riferimento dell'intera regione Abruzza per quanto riguarda eventi e manifestazioni. Grazie